Siamo con l'assessore al comune di Pordenone, Guglielmi Nacucci, per una iniziativa che vede il territorio del Pordenonese, Sacile, Pordenone in collaborazione per la corsa di Birocchi, una iniziativa che è stata riproposta per recuperare un qualcosa che era già presente nel 1800. Lei è assessore del turismo nel comune di Pordenone, iniziative come questo in un contesto veneziano della Serenissima così straordinario viene fatto anche e soprattutto per incominciare a intercettare elementi di carattere turistico proprio su queste particolarietà. Assolutamente sì, noi lo approviamo, lo sosteniamo perché siamo fermamente convinti che il territorio debba lavorare in rete per valorizzare e sostenere le eccellenze e soprattutto per rilanciare una collaborazione sinergica con il territorio. Pordenone, Sacile, una iniziativa di questo tipo in un territorio dove c'è una forte presenza industriale, riproporre qualcosa di antropologico, riproporre qualcosa del nostro passato ha un significato per portarci anche verso un futuro che per il momento non è che dia molti elementi di chiarezza. Assolutamente sì, il settore manifatturiero e industriale della zona del Pordenonese ma anche del territorio sacilese ha un ruolo importantissimo nell'economia proprio del territorio e il turismo e quindi tutte le attività commerciali non possono che beneficiare di questo sostegno. Sicuramente il futuro ci indirizza verso l'innovazione e la tecnologia e credo che questo, anche questo unire le forze, possa essere significativo.